Come faccia smorta incontrò Pelle Rossa, un documentario di Andrea Canetta con Darko de Grussa, Award of Merit, a Los Angeles Cinema Festival of Hollywood. La storia di Dino de Grussa, che nel 1929 lascia Olivone alla volta del Canada, dove incontrerà e sposerà la principessa Shelag, pronipote del capo indiano della tribù degli Suswap. Ospiti in sala il regista Andrea a Canetta e il protagonista Darko de Grussa. Giovedì 17 luglio Cinema Teatro Blenio di Acqua Rossa. Entrata gratuita a partire dalle ore 20.